La provincia di Belluno è una provincia con 69 comuni e il tema dell'unione dei servizi e delle funzioni è sicuramente un tema assolutamente di attualità. È un tema che va visto però in una logica di un territorio complicato come quello di montagna e un territorio che ha bisogno comunque di garantire i servizi molto vicini ai cittadini. Quindi in questo contesto dobbiamo ripensare assolutamente il modello di gestione degli enti locali in provincia di Belluno pensando a una riorganizzazione che vede province, comunità montane e comuni insieme per unificare al meglio i servizi e garantire quinti il presidio del territorio e i servizi del cittadino. Altrimenti corriamo il rischio che questa provincia si spopoli con le conseguenze anche dal punto di vista del dissesto del territorio e della tutela ambientale.